Ciao, sono Marco e nel video di oggi risponderò alla domanda Quanto vale il tuo tempo? Spesso questa domanda mi è stata fatta da miei collaboratori o spesso appunto online, anche liberi professionisti, anche i miei clienti mi hanno chiesto quanto può valere il mio tempo nel senso quanto posso, quanto è, quanto può valere la mia tariffa oraria è una domanda molto complicata alla quale però possiamo cercare di dare una risposta e avvicinarci a quello che può essere il valore del nostro tempo in termini di ore iniziamo quindi con parlare appunto di un primo parametro, un primo fattore che possiamo utilizzare per andare a determinare quanto può essere la cifra oraria del nostro tempo perché appunto spesso liberi professionisti mi chiedono ma quanto può valere la mia consulenza oraria 50 euro all'ora, 100 euro all'ora, 300 euro all'ora la prima domanda che bisogna farsi per poter rispondere a questa domanda scusate il gioco di parole è proprio la seguente è che valore porta al mercato la mia consulenza, il mio servizio la mia ora di tempo che sto dedicando a quel determinato cliente l'altra domanda che devi farti è quanto valore tolgo a me, alla mia azienda, diciamo ai miei introiti dedicando un'ora di tempo a un cliente queste due domande possono iniziare a creare un po' un'idea a darci un po' l'idea di quanto potrebbe essere la tariffa oraria data appunto da poter richiedere ai clienti ovviamente nei limiti del possibile però voglio portarti questo esempio per farti un pochettino capire prova a immaginare se tu stai lavorando alla costruzione di magari un e-commerce con WooCommerce e questo e-commerce fattura 100.000 euro magari al mese quanto può valere la tua conoscenza e quanto può valere quindi un'ora se questo e-commerce fattura 100.000 euro al mese? quante ore ti servono poi per costruire questo e-commerce? quindi per esempio prendendo il totale di ore che ti servono per costruire questo e-commerce dividendolo magari per questo fatturato potresti ottenere un costo orario è ovvio che bisogna comunque mantenere degli standard di mercato non possiamo uscire fuori con una tariffa di magari 20.000 euro l'ora perché sarebbe leggermente fuori mercato però diciamo che questi calcoli possono aiutarci a dare un'idea a darci un po' a spanne, un ventaglio di prezzo di quello che potremo andare a chiedere per invece riportarti un esempio rispetto alla seconda domanda di cui ti ho parlato prima poniamo caso che tu abbia un tuo business personale magari un tuo e-commerce che ha un suo fatturato o magari stai scrivendo un libro o magari stai creando un nuovo servizio per la tua azienda e ti viene richiesta una consulenza il tempo che tu togli, quell'ora di tempo che tu togli al tuo business, al tuo servizio, a quello che stai costruendo quanto costa alla tua azienda o al tuo business quindi quanto fatturato in meno può andare a creare questo utilizzo di questa ora di queste ore di consulenza che ti vengono richieste anche qui otteniamo una sorta di dato che può darci un pochettino l'idea di quanto può andare a valere il tuo tempo quindi quanto può essere la tua famosa tariffa oraria questi naturalmente sono soltanto dei parametri vogliono essere soltanto dei parametri non sto dicendo che devi effettuare obbligatoriamente la divisione di cui ti ho parlato prima anche perché appunto non è detto che tu abbia questi dati in mano ma servono per renderti un attimino conto di quello che puoi andare a richiedere in giro altra cosa che puoi fare esistono comunque online a volte per i vari settori merceologici per le varie categorie lavorative esistono un po' di quelli che sono i salari medi magari delle persone assunte in quella determinata categoria o che sanno fare quel determinato mestiere quella determinata conoscenza quindi da lì puoi tirare fuori per esempio un prezzo unitario che puoi andare a chiedere naturalmente potresti alzarlo un po' visto che tu sei un libero professionista hai anche altri costi a cui superire quindi questo è un terzo strumento per andare un pochettino a capire quanto potrebbe valere il tuo tempo e poi soprattutto quello che devi tenere a mente che è fondamentale per stabilire quello che è il tuo prezzo è che valore tu stai portando al tuo cliente quindi qual è il valore che tu stai portando al tuo cliente in base alla risposta di questa domanda tu puoi dare un valore del tuo tempo in termini di ore che va da zero a infinito siamo d'accordo? quindi se la mia consulenza costa 3.000 euro all'ora e ti permette di guadagnare un milione di euro quanto è costata la mia consulenza? tanto o poco? quanto è costata la mia ora? e quanto è valso il mio tempo? forse valeva molto di più quindi che valore ho portato io al mio cliente con questa consulenza? con questo servizio che ho venduto? ecco che con questi spunti che ti ho dato dovresti essere in grado di estrapolare un pochettino quello che è il valore del tuo tempo quindi spero che comunque questo video in un qualche modo ti sia venuto utile se c'è qualcosa che comunque non ti è chiaro o qualcosa che non hai capito o qualcosa di cui vorresti parlare ti invito a scrivermelo qua sotto nei commenti anche per avere un po' di spunti per magari dei prossimi video quindi se c'è qualcosa che ti interessa scrivimelo magari lo tratterò nei prossimi video e soprattutto se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao